Bella ragazzi, questo video per un problema tecnico è uscito senza audio di gioco, spero che per voi non sia un problema Invece di metterci una musica sotto che potrebbe dar fastidio, ho preferito lasciarlo senza musica Fatemi sapere se vi piace più così o con le musica appunto del gioco, gli effetti, fatemelo sapere ma ovviamente sarà più per la seconda Prossimo video tranquilli, è tutto sistemato Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Cicciochiamere89, siamo tornati su Clash Royale Signori vi invito a lasciare subito un bel like, sperando di non avere problemi con il pc che è rottura di palle Signori le ultime partite diciamo che l'abbiamo vinte tranne questa qua dove ci hanno calato un deck molto molto pesante Ho l'impressione che la nostra palla di fuoco ricominci ad essere abbastanza inutile E oserei dire che magari invece della palla di fuoco potremmo optare per la Valkyria Potremmo come non potremmo Secondo me la palla di fuoco non è una grandissima carta A sto punto sapete che c'è? Io voglio rintrodurre le guardie e direi di andare Perché comunque stiamo salendo pian pianino di coppe però stiamo salendo E devo cambiare deck, poi oggi è una giornata un attimo strana ragazzi Perché fra roba che si corrompe e cose A sinistra non intendo difendere perché non mi interessa Gli abbiamo fatto qualche danno ma lui ne ha fatti più di noi Interessante questa come statistica Molto interessante E secondo me ragazzi lui ha un deck pure lui molto molto veloce Al limite io posso uscirmene così ma di fatto me lo aspettavo Vedete adesso ricominciano quei deck molto particolari Avete capito quello che vi voglio dire Con il gigante Con queste cose qua E ci sta eh perché capirai A me mi dici gigante Anzi in realtà lo volevo anche rintrodurre il gigante Seriamente lo volevo rintrodurre Infatti come vedete qua le nostre carte Incominciano a essere Un attimino fuori fase No ragazzi allora questo contro uno è bravissimo E vabbè si vede lontano un miglio che è bravo Ma proprio le nostre carte adesso non vanno bene ragazzi Non vanno bene perché adesso lui mi ritira il gigante royale Perché sta in avanti Cioè sta sopra di Elisir Questo io lo so perfettamente Mi riterirà Ritirerà di nuovo gli sgherri E di fatto Di fatto Vedete è come vi dicevo io Anzi sto giro mi ha pure tirato gli sgherri Quelli un pochino più piccoli Quindi è abbastanza Particolare come cosa Vediamo è perché con questa mossa qui Forse gli faccio qualche danno Io lo faccio Dato che l'ho zappettato L'ho zappettato Beh qualche danno gliel'abbiamo fatto Però stiamo Stiamo subendo ragazzi E male Anche l'altra torre sta messa male Qual è la carta Adesso mi farebbe piacere che voi lo notaste Ma tanto lo noterete sicuramente Secondo voi qual è la carta Che sto utilizzando meno in questo momento Pensateci bene ragazzi Per favore pensateci bene E' questo ragazzi Questo signorotto di colore Esattamente lui Lui veramente lo stiamo utilizzando pochissimo E infatti Si nota Si nota Assolutamente Ok Il nostro dovere L'abbiamo fatto Perfetto Ovviamente ci ha detto anche un po' di fortuna Ma che cazzo Ogni tanto Datamara un po' di fortuna pure a me Noi abbiamo un deck Che in realtà Gira leggermente E sentite le mie parole Leggermente meglio di lui Almeno secondo me Possiamo buttare le guardie E dargli una bella Zappata E ragazzi Qua E' tosta Non credo che ce la faremo mai Ma è impossibile farcela In questo momento E' veramente impossibile Ragazzi Perché il prossimo domatore Ce lo dirà in testa Io me lo dico Il prossimo domatore Ce l'abbiamo Che ce lo dirà in testa Quindi ragazzi Il prossimo Avete capito quello che intendevo Esatto Allora dobbiamo Ma perché Ma io dico no Perché mi dovete fare incazzare Ho capito Che cazzo ti piagni Per prendermi per il culo Mortacci tua Adesso te cambio Io te faccio vedere Come ti rompe il culo Do stai bella papà Che ho capito io qua Che dobbiamo fare Questo va di diritto là Visto che ci sono I barbari Questo va diritto qua E mo vi faccio vedere Come cambia la situazione Perché mi avete rotto Un attimo le palle Mo 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 Ci stanno problemi Non ci sono problemi Vi faccio vedere io Vi faccio vedere io I sorci verdi Gialli Rossi Viola Azzurri Fucsia Borduau Tutti ve li faccio vedere Allora Ritorniamo Concentrati Ovviamente il gigante royal Non ce lo danno Ma Queste sono cose Nostre Posso buttare Lui Posso buttare Lui Vediamo eh Vediamo perché per il momento Ci sta dicendo bene Avrei preferito qualche item In più Magari A quello strunz Che avevo detto Che c'erano i barbari Ma che avevo detto Che c'erano i barbari Ma guarda che veramente Cioè Lo sapevo Io lo sapevo Fate come vi pare Dovremmo riuscire ad arrivargli incontro Cioè Ce la dovremmo fare Zio Per favore Ah tra l'altro Dovrei rimettere il mini pecca Comunque Questi li faccio partire da lontano Perché Ce la dovremmo fare Ok Qualchette me la voglio beccà Qualchette te la lascio fa Non mi interessa Certo Cazzarola Uno di vita Mondie Puttana la letra Uno di vita Ma Seriamente Guardate se il gigante Royale Royale Non riesco a tirarlo Eh Allora Il Mago Se ne sta Andando per di là I miei capelli Uguali Stanno andando insieme al mago Quindi Lui C'ha C'ha Esatto Questo Io questo Non volevo Questo attacco Incredibilmente Prepotente Io questo Non lo volevo Questo è un attacco Che ci butterà giù Torre Questo si sa Se avessi adesso i soldini Per portarmi Il gigante Royale Vedete adesso Io ho un deck Che fa fatica Ad andare sul gigante Royale Fa fatica Assolutamente Fa fatica Lui pure ha un deck Molto Molto Prepotente E direi Di potercene Scendere Così Ce ne scendiamo Così Ovviamente Qualche danno Glielo facciamo Importante Perché il gigante Royale A prescindere Qualche danno Importante Lo facciamo La mongolfiera Secondo me L'ha tirata Non dico male Ma Semi male Perché comunque Vedete ci stanno loro Che adesso Mi butteranno giù I tipi Aspetto un attimo Faccio così Faccio così E mi do una bella mano Ragazzi Mi sto dando Una bella mano Vedete Tutte le unità Comunque Stanno facendo Tutti il loro dovere Non è che tante volte Tu prendi quelli là No Perché per carità di dio Ok Facciamo così Ragazzi Guardate che minchia Di attacco Che mi sta facendo Sto tizio Cioè C'ha una cattiveria Dentro Epocale C'ha una cattiveria Epocale Dentro sto ragazzo Ma io tanto C'ho tutte le truppe Che possono fermarti Zio A me Sinceramente Che tu fai così O fai colà E io difendo Non ce la fa A prendermi ragazzi Non ce la fa Ve lo garantisco Non è possibile Non è possibile C'ho tutte le truppe giuste Dai Gesù Dai Gesù Vai a casa Per favore Show Show No Show Mas Poi lo significa Lo spettacolo Va avanti Home Quindi Questo l'abbiamo fatto Potrebbe essere utile Il mini pecca In queste situazioni Secondo me Assolutamente Sì Io ne sono Sicuro Perché dobbiamo Alleggerire Un pochino Il nostro deck E togliamo I barbari Come vi ho detto Ragazzi Dobbiamo capire bene Dobbiamo capire bene A sto punto Potremmo addirittura Ma così Secondo me Rischiamo troppo Secondo me Rischiamo troppo Sapete Perché potremmo mettere Il baby dragon Però Perché loro Sì mi piacciono Ma Neanche tanto C'è gli spiritelli Quelli belli Potremmo fare Io Voglio riprovare così Perché adesso Tanto c'ho il mago Che mi focussa I barbari Aspetta che Vabbè C'ho il baule Della corona Vabbè Ma oggi è un po' così Lasciatemi perdere Quindi facciamo così E così Facciamo una bella Accoppiata Se riesco Vi faccio anche Un'altra partita Ragazzi Brutte frecce Questo qua Ha tirato delle Brutte Brutte frecce Ragazzi Bruttissime Quindi Principessa Mentre la principessa Cammina Noi dovremmo avere Le truppe necessarie Per cagare Per cagare Lui Ma Non lo voglio fare Non lo voglio fare Perché No Posso buttare Lo stregone Lui mi butta Quello Sapete come la penso io Su sto fatto No Come la penso io Lo sapete Perfettamente Non mi interessa Assolutamente Che lui Mi abbia tirato I barbari A me interessa Che appunto I barbari Vengano fermati Dagli sghieri Che in questo momento Ci ha detto Relativamente Sfiga Ora tu dici Come fai a fermare Tutta quell'altra roba Che c'è là La fermo Con un po' Di calma La fermo Qua devo Assolutamente Zappettare Perché se no Per noi sono cazzi Siamo sempre in vantaggio Questa partita Mi sta piacendo Notevolmente Perché Me la sto studiando Bene Questa Si vede che Me la sto studiando Bene Lui mi vuole Attaccare nuovamente Con Il gigante Quindi Converrebbe Che io Tiri Che io tirassi Il mio Perché Tanto Lui C'ha I barbari Io lo so Io lo so Cioè tu con me Puoi fare tutto Quello che vuoi Io lo so Che tu c'hai i barbari Quindi I barbari Non credo che arriveranno Neanche Alla Principessa Perfetto Raga Ma che ve sto Dì Lui c'ha le frecce Attenzione Lui potrebbe Infatti C'aveva le frecce Però io vado Di questo Non siamo riusciti Nel nostro intento Di togliergli Quella roba lì Quello stregone Adesso sarà una rottura Di palle Toglierlo E vi Appunto E vi dirò Anche il perché Possiamo fare Così Allora L'importante Per me Adesso è togliere Lui Assolutamente Per fortuna Non mi ha preso Raga Tutto Tutta roba Che ghiaccia Tutta roba Che fa Roba così Assolutamente Tutta roba Che ghiaccia Tutta roba Che stunna Tutta roba Che rompe le palle Ok Va bene Ci sta Ci sta tantissimo Facciamo così Lui Lui Mi sta Tirando La peggio Roba Ragazzi Possiamo Fare Così Tolgo Un bel po' Di roba Ragazzi Vi devo Dire la verità Che sto Giocando Con il Cazzo Duro In questo Momento No Non gliela Fai Sei un Pavone Sei Sei un Pavone Un Pavone Sei Sei un Pavone Oh Bellissima Partita Comunque Però se Non avessi Cambiato Il deck Secondo me Non ce l'avremmo Fatta Poi ragazzi È normale Se incomincio A perdere Perché qua davanti Incominciamo a pistasse Non cortate più Il numero Del reale Qua È inutile Bella partita Grazie Stupenda È stata stupenda Abbiamo fatto Bellissima la partita Allora Vediamo lui Con che inizia Quindi io farei Di questo Farei Di questo Il mago Potevo anche Non tirarlo Effettivamente Perché tanto Non ci sono riuscito Adesso stiamo Incontrando Tutti sti tizi Qua Lui Mi ha tirato Il mini Pecca Potrebbe essere Un'ottima Occasione Per andare Di gigante Royale Lui c'ha Il moschettiere E io Comunque Rimango fedele Alla mia idea Vediamo se Tante volte Cristofolo Colombo Proprio così Stiamo messi E questa È pura Cattiveria Questa è Proprio Cattiveria 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 Tantissimo Questa è Veramente Cattiveria Ragazzi Io Ho notato Che I deck Con Il Il Peccone Gli soffro Tantissimo E non va bene Anche è vero Che gli ho fatto Utilizzare Tutta Perché guardate Lui mi ritira Il mini Pecca Sicuro Quanto Cazzo Vi pare Ragazzi Guardate Questo è bravo Questo è Veramente Bravo Ragazzi Questo è Veramente Bravo Ragazzi Io non gliela faccio A togliergli Certo Se mi rimaneva Viva Lei Troppo Bello Devo Rientrare Per forza Lui mi Tira Il Pecca Non ci posso Fare niente Ragazzi Ma non è tanto Quello il problema Perché non è tanto Quello il problema Perché da solo Lui Riuscirei A toglierlo Il problema È tutto quello Che si porta Dietro Ragazzi Tutto quello Che si porta Dietro Diventa Un problema Ragazzi Questo come Cazzo Lo fermo Questi hanno Dei deck Così Partito Ma Va bene Che c'ha L'estrattore Di elisir D'accordo Che c'ha Allora Io ho visto Anche un altro commento Che sembrerebbe Che chi ha il deck Più pesante In questo momento Riesca a calare Più roba Dà una sensazione Molto strana Perché il mio deck È molto leggero E non capisco Com'è possibile Però Avendo Visto Che c'hanno sempre Quel mini pecca Io non riesco A tirarglielo giù E raga Questo non va bene Questo non va Non va bene Ragazzi Non va bene Assolutamente A sto punto Io torno così Spero di rincontrare Un altro Che abbia il pecca Perché Ragazzi Non va bene È molto interessante Dovrò studiarmela Questa cosa qua Perché sembra Che c'ha il deck Che c'ha il deck Più leggero Abbia fatica A buttare giù Le carte È una sensazione Che mi farebbe piacere Se voi Me la diceste Qua sotto Se avete la stessa Sensazione È una sensazione Un po' così Io ci ho fatto caso Sembra che I deck Veloci adesso Boh Sembra che Sapiano Tutto il culo Proprio così Boh Non lo so Non lo so Non lo so Sì hanno fatto Gli aggiornamenti Hanno fatto i bilanciamenti Ma non lo so Ragazzi Mi sembra così Particolare Grazie Hai visto Mi sembra molto Particolare Molto 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 Particolare Gigante Royal Anche è vero Che il gigante Royal L'hanno depotenziato A livelli Cosmici Cioè Qui non dice Niente nessuno Assolutamente Pure la principessa L'hanno depotenziata Quindi Diciamo che Tutte le nostre Carte preferite In Qualche modo Sono state Depotenziate Tanto Ok Procediamo Con questa Situation Peccato Perché se Loro venivano Grabbati Dal Avete capito Dal minatore Saremmo stati Oggi sto a fare Un video enorme Questo fa Quindi Lui mi ha Buttato Non mi ricordo Cosa mi ha buttato Ah sì Gli sgherri Mi ricordo Perfettamente Adesso Quindi noi Facciamo così Facciamo così Tanto lui È scemo Sicuro Mi li ritira Io già sto pronto Col ditino Già sto pronto Regà Non è così Scemo Come credevo Mi devo Assolutamente Tenere La scarica Per forza Perché lui Ha Gli sgherri E vediamo Un attimo Lui che fa Mi faccio Colpire Mi voglio Far colpire Ragazzi Non mi interessa Di difendermi Troppo Quindi questo Facciamo così Gli sono arrivati Sotto due goblin Che comunque Gli hanno tolto Buttiamo una principessa Che comunque Danneggia I suoi goblin Quindi Ok così Possiamo partire Di questo Se c'ho fortuna No non ce l'ho avuto Perché se no Mi poteva tancare Ok Quelli li ha sprecati C'ho sempre questo Possiamo fare così Ah questo sta anche Un pochino indietro di carte Se è per quello Ok E va bene E tre stelle Tre stelle Cioè tre corone Scusatemi Non male Non male Non male Ma devo Devo guardare meglio Ragazzi Devo assolutamente Guardare meglio Perché è molto particolare Ultimamente Siamo 56 esi Mi voglio vedere Così per sfizio E vedete Usano tutte carte Enormi Usano tutte Carte Enormi E' cambiato Sicuramente Qualcosa Questo è il solito Deck Vedete E' cambiato Comunque qualcosa Vedete C'hanno la torre inferno Attenzione Questo è importante Questo deck Qua perché Lo stanno utilizzando Così tanto Vedete Anche il bocciatore Per esempio Questo è il solito Deck Che comunque A quanto pare E' molto molto Efficace Secondo me Signori Dalla prossima volta Ci sarà Un bel cambiamento Signori Se il video di oggi vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete il prossimo episodio Credo che cambieremo Parecchie cose del deck Bella Lo sai che non lo so Ma che cazzo L'ho fatto Qua faccio Scendere Toge Che che va Ma purello Ma toge Me l'hanno Focusato in una maniera Incredibile Non so se l'avete visto Ma veramente Con una di quelle Cattiverie Imbarazzanti Lancia fiamme Contro